Parteciperai ad IOTV? Partecipi a IOTV? Tu non spingere, fai il tuo dovere. Partecipi a IOTV? Puoi non ti lamentare quando... Partecipi a IOTV? E le chiacchiere che hai raccontato fatto 100? La Villa Peripato? No, 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 nessuno, chi te le alza le mani? Rispondi le chiacchiere che hai raccontato sulla Villa Peripato, rispondi, le chiacchiere sulla grande riqualificazione, tu Guarino che fai? Tu Guarino che fai? Rispondi, rispondi, le chiacchiere sulla Villa Peripato, guarda come spinge questo, filma, filma, si devi solo vergognare Guarino, ti devi solo vergognare, è tutto filmato, io sto solo parlando democraticamente, non sto offendendo nessuno e non sto alzando le mani a nessuno. Grazie a tutti.